E' facile, perché noi non abbiamo il nuovo mondo, non viviamo nell'indiccia e nell'ordine, come noi. L'uscitore, adattare il governo, e da lì si scappiamo, subito cominciare con la grucia e con la grucia, e dopo appena sette mesi, a livello fino al governo, i due anni continuarono, in modo molto sciato, a cercare, adattamento, i processi di farmi più suoni dall'Oscena Polizia. In quel momento, loro sono cinquantasette in un'ordine che mi hanno chiettato addosso. In nessun paese simile e semplicemente nella storia, mai è il successo che un leader politico abbia da poter assumire una sigla in un'unica verza e profonda. Andiamo, lontano, ci siamo tutti ieri, abbiamo un gruppo di amici, un gruppo di amici, un gruppo di amici, cercato di non perdere la storia, e gli effetti, per fare qualcosa di assieme, siamo tutti ieri fuori, senza nessuna vocale. Allora, 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 non cambiarono strategia, non bastavano più, non bastavano più. Allora, quando i pubblici ministeri di magistratura democratica, occorreva che anche i collegi fossero votati, e hanno occupato tre posti su tre, sei collegi, e loro sono cominciati a fioccare le condanne. La condanna per i diritti mediasi, la condanna per il pubblico, la condanna per quella frase che paghiamo per una banca, che vediamo che si può piacere. E sono diventati due donne di velocità, sul processo di diritti, in pochi mesi, alla Cassazione, dovevo andare dal mio giudice naturale, per il titolo della Costituzione, quello della terza sezione penale. Si sono diventati un duro, hanno detto che mi dà un processo, maturata dalla Costituzione, nel primo di agosto. E quindi, siccome la giudizia va in vacanza, è un quarto giurdo, è un altro giurdo che io non si è assegnato a un progetto giurdo. Io penso che sia stato confusco quello che sono. Quattro giurdo ci sono cinque, che avevano già prevedo e prevedo e prevedo la voglia di condenarla. Allora, facciamo vedere le carte, le documenti che si vede a dimostrare che in quest'azione cadeva il 26 di sentenza, e quindi potevamo tranquillamente essere segreti al progetto giurdo di fare questo progetto giurdo. E questo progetto giurdo, alla fine di due giorni, ha pubblicato una canzone che è basata sui valori, e sono congiuntori che non aiutarsi su nessun fatto, su nessun dichiarazione, su nessun membro, su nessun testimone, su un dato che lo vengono in un giorno, e facendo un peccato, tutta la legge, come sentenza, nella stessa ruota costituzionale, che nel 2012, nel 2013, il 6 marzo scorso, su cui stessi, i dei ragazzi che ci fanno, collocati sul campo in anni precedenti, mi avevano risolto e formulato a piedi. E con questa sentenza che rinvento grida a vendere tanto di racconti, il Senato, anzi, non il Senato, ma i nostri alleari, i nostri alleari di governo, si sono un pregio di casa, che hanno aperto i suoi eventi per la mia antica prevenza, nella scuola. Nell'epoca di casa, per quasi precedenti, i tempi impegnati, per buscarsi benedente, di 14 mesi, con me, per tre settimane, tutto si è risolto. E per portarmi al mondo che si sta consumando ora, per portarmi al mondo, hanno capistato la legge. Il primo, questo tempo affrettato, il secondo, c'è un problema che dice, le leggi dell'Unione Europea, che quando tra una legge nazionale e una legge europea sopraordinata ci sono dei contrasti, c'è appunto l'obbligo di adire la Corte Europea per un'interprestazione autentica, non altro.